Prima a Prato l'incontro con il mondo del lavoro, con una realtà economica e sociale che ha sofferto in modo particolarmente duro per la crisi e che oggi è fortemente connotato dalla presenza straniera, in particolare da quella cinese. Poi la visita a Firenze, l'incontro con l'anima culturale e caritativa della città. E' questo il programma della prima visita di Papa Francesco in Toscana, martedì 10 novembre. Il contesto in cui avverrà è il convegno ecclesiale nazionale, che in quei giorni vedrà la chiesa italiana riunita proprio nel capoluogo toscano. Papa Francesco giungerà a Prato intorno alle 8, sarà accolto in piazza del Duomo dal vescovo Franco Agostinelli, venererà in cattedrale il sacro cingolo mariano e poi incontrerà la comunità diocesana e tutta la cittadinanza con un'attenzione al mondo del lavoro. Quindi arriverà a Firenze per un percorso che toccherà il Duomo, la Santissima Annunziata, il pranzo alla mensa della Caritas per concludersi allo stadio. E' un itinerario che porta il Papa ovviamente anzitutto a contatto con l'Assemblea dei Delegati di tutte le diocesi italiane che convengono a Firenze per trattare il tema in Gesù Cristo il Nuovo Manesimo, a cui il Papa rivolgerà un discorso. Accanto a questo appunto c'è questo contatto con la nostra città, sia nelle sue radici civiche e religiose Battistere e Duomo, sia nella sua anima mariana perché andrà anche alla Basilica Santissima Annunziata dove troverà un gruppo di disabili che pregheranno con lui davanti all'immagine dell'Annunziata e poi il pranzo insieme con i poveri e dopo pranzo la messa allo stadio comunale, così speriamo. Una visita che consentirà a Papa Francesco di toccare i temi a lui più cari e di coniugare gli aspetti culturali di Firenze con quelli sociali e caritativi. Voi sapete che a me interessa molto sottolineare questo legame tra cultura, arte e carità perché questo è Firenze. Guai separare, farla soltanto una questione di intellettuali o di nobili artisti. Firenze è quella realtà che ha saputo nei secoli proporre una realtà di uomo, di umanesimo che ha vissuto l'esperienza della bellezza unito all'apprendersi cura dei fratelli.